14 vediamo esattamente che misura ha perché la casella 14 è la casella della fame noi non siamo capaci di scandalizzarci del fatto che 33.000 bambini tutti i giorni muoiono di fame nel terzo mondo, 33.000 sono 11 torri gemelle, tutti i giorni la fame in un anno fa 15 milioni di morte in tre anni fa più morti che la seconda guerra mondiale in cinque anni, 33.000 che uno dice ma quanto sono 33.000? Ma sono le cifre esagitate, tutti i bambini d'Algona come se un giorno morissero tutti i bambini d'Algona, ma tu pensi che è un burdello che succede? Che arrivano i capi di stato da tutte le parti, bandiera a mezz'asta per secoli ma di più per sempre, per se la tagliano proprio l'asta la bandiera, non la fanno più salire poeti che fanno poesie su questa cosa per tutto il secolo, giornalisti che scrivono sulla mente sto titolo per cent'anni, 33.000 bambini, che uno dice ma quanto sono 33.000? E' difficile da visualizzare 33.000 bambini, questo è l'elenco telefonico di Terni ci sono 35.000 numeri di telefono, tutti i giorni frivì 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 come si arriva a mezzanotte, frivì 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 tutti i giorni, tutti i giorni e noi non siamo capaci di scandalizzarci di questa cosa anzi ci irrigidiamo anche un po' la cosa ci infastidisce anche un po' tant'è che poi in Europa per essere belli spendiamo più di quanto in Africa non si spenda per mangiare noi per essere belli, con dei risultati del cazzo ma onestamente tutto onestà, uno fa schifo, spendiamo delle cifre blu, tu vedi uomini seri che spendono 11.000 euro per farsi il trapianto dei capelli, vengono fuori tutti a quadretti come ciccio bella, non è una cosa che...